Dottoressa Siracusa, il sangue è una risorsa sempre più preziosa e il lunedì prossimo avremo modo di conoscere dettagliatamente nuove tecniche che permettono di utilizzarlo al meglio e di abbattere anche i costi. Sì, sicuramente sì. Questo convegno ci darà tanti spunti alla riflessione, ci darà modo di poter verificare con i nostri colleghi, soprattutto i chirurghi, gli ortopedici, gli anestesisti, dei nuovi percorsi, poterli condividere in protocolli definiti. Noi stiamo già lavorando molto in questo senso per la collaborazione con gli altri colleghi, abbiamo già implementato dei protocolli, ne faremo altri e sicuramente lunedì sarà un momento a livello culturale molto importante per noi. Dottoressa Pennecchietti, in che cosa consistono queste nuove tecniche che presenterete? Sono delle strategie che per gli addetti ai lavori chiamiamo multidisciplinari, centrate sul paziente, di carattere farmacologico e non farmacologico, che attuate ci consentono di andare ad individuare quelli che sono i fattori di rischio modificabili, che se corretti ci aiutano ad evitare quelle che sono le trasfusioni evitabili. Quindi individuare i fattori, correggerli prima, prima di arrivare a un utilizzo non appropriato della risorsa sangue, che come sappiamo è un bene prezioso e limitato. Quindi è grazie ai nostri donatori che riusciamo ad avere del sangue e a poterlo mettere a disposizione dei pazienti che per le proprie condizioni cliniche ne hanno bisogno. Quindi parliamo di strategie utili proprio al fine di contenere una trasfusione non necessaria.